Un volto nuovo, un giovane centrocampista di grande valore, di grande qualità, Safir Tader, ben arrivato all'Inter. Grazie, sono molto contento di poter essere all'Inter, sappiamo tutti che è una grandissima squadra e sono felice comunque. Tu sei un giocatore che a centrocampo può giocare un po' ovunque, ti abbiamo visto giocare interno-destro, centrale, sinistra, dietro la punta, come uno dei due trequartisti, la duttilità, la capacità di adattarti è uno dei tuoi punti di forza? A me piace lottare, correre, aiutare la squadra, sia in fase difensiva che offensiva, poi sono un giocatore che aiuta la squadra, che fa tutto per dare il massimo in campo. Dalla Francia in Italia, possiamo dire che però la tua formazione è arrivata proprio qua, è qua in Italia che hai iniziato a giocare il grande calcio. Sì, avevo iniziato molto giovane in Francia in Serie A, poi è vero che ho iniziato il vero calcio in Italia, ho fatto tanti sacrifici per venire all'estero molto giovane e quindi il lavoro paga, sono contento di poter essere qua, ma era un obiettivo sportivo e adesso c'è da lavorare molto. Belfodil, Teider, in Algeria, sono tutti interisti da oggi. È vero che ha fatto il suo esordio una settimana fa, era contento e adesso siamo contenti di poter essere insieme e giocare insieme all'Inter. Cosa ti aspetti da questa esperienza? Inizi un'avventura importantissima in un grande club quale l'Inter. Sì, mi aspetto soprattutto di crescere molto, lavorare molto perché senza lavoro non guadagno niente, quindi l'importante è di poter lavorare ogni giorno e di crescere con il mister e con la società che mi ha dato fiducia. Poi sogniamo tutti di vincere tutto, è una grandissima squadra che ha già vinto tutto e noi, i giovani e quelli che sono già qua, faremo di tutto per dargli il massimo. Una bella cresta, curata, bene, con attenzione. Sì, sì. Cambia colore, no? No, no. No, tranquillo, così rimane. Da Bologna c'era la grande cucina, cosa portiamo da Bologna? No, da Bologna non ho niente da portare ma ringrazio comunque la società che mi ha dato, che hanno lavorato bene con l'Inter per lasciarmi andare via e comunque li ringrazio per questo sia il Bologna che l'Inter che hanno lavorato molto bene insieme. Ancora benvenuto, bocca al lupo, che siano tanti anni importanti con Taderno e Razzurro. Spero, grazie. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...